Questa è la macchina? Sì, questa piace? Sì, che bella! Andiamo. Siorina, e a dove va? Ma la gita? Voi impara, io spiega. Così? Dall'altra parte. C'è ragione. Mi raccomando, un po' di concentramento per questi esami di guida. Mette in moto e parte. Mamma, io! E adesso! Calma, 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 signorina. Gliel'ho detto l'altro giorno, gliel'ho detto. In questi casi, in questi casi, che cosa si fa? Si deve concentrare, vabbè, vabbè, sì, lì si deve concentrare, eh? In questi casi, e piange. Non si piange, non si piange. In questi casi, che cosa si fa? Eh? Che cosa si fa? Fai la retromarcia. Fai la retromarcia! Sì, pesante. Parla di ciclasticismo. Alla te! Eh, non ci suggerisce. E' chiaro. Scusa, la bambina sta imparando, eh, con un po' di pazienza. La prossima volta, picchino po'. Beh, però fa l'allenare. Eh, che diamine? Ellice? Smitta va? Aaaaahhh! I dag. Reve auxi en de rodemanna. STEPHANISAN можете tête uela homme